Vuoi fare un Tryndamere jungle o un Lee Sin? Però Tryndamere non lo so giocare, Lee Sin so che cosa fa La Tryndamere col Feral, cazzo Ok, mi tocca andare top lane Wow, Tryndamere col Feral lo so di season 2, dico Eh, sennò io gioco Lee Sin top, eh Nah No, questo qua sai perché? Lo so io perché, lo so io perché L'ha detto Valkrin Valkrin, cioè questo c'ha Aspetta, aspetta, aspetta No, 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 non pensare Non è così malvagio Ok, forse a Gold si, però Valkrin Valkrin, che è un challenger americano che fa analisi Ha fatto due conti E Graga Support può funzionare No, siamo a Platino No, siamo ancora a Gold non lo so di tutto Hai saltato due divisioni Una divisione se comunque è Gold 3 Allora, allora È Platino 5, Gragas Con 3 wins sopra le lose Wow Vabbè Aspetta, vediamo Catarina Vediamo Catarina Vediamo Catarina Dai, forza, dai Mastro di Terry Mastro no, no Vabbè Voglio morire Aspetta, come si chiama Gragas di Gen? Pimpsons Vabbè, ok, io gioco Shaco Oddio Dite che prendo Lorenzo e mi cagano in testa, Silvio Oddio L'ho già beccato questo Ok, YOLO YOLO Cosa, chi è beccato già? Oh, se vogliono fare... Support Oh L'ho beccato avantiieri Oh, se vogliono trollare benissimo, io faccio Shaco Shaco Jungle? Sì Madonna Vai Madonna, no, 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 no Perché dobbiamo fare le cagate? Io non lo so Non lo impromo Cioè, perdo proprio punti e basta, non sono a zero Dai, dai, adesso carriamo questo game come se non ci fosse un domani Andrai in Legendary con Renekton e tipo andrai full AD e fan culo al mondo Io prima di andare a dormire scendo ti pesto, però se la perdiamo Cazzo, abbiamo Mazzara di Kerry, è broken a merda LGS è pieno di Mazzara di Kerry Infatti, hai mai visto un Mazzara di Kerry perdere? No Vedi? Non puoi dire che hai visto un Mazzara di Kerry perdere? Non puoi dirlo Non hai mai visto un Mazzara di Kerry perdere? Ho visto un Fit Support perdere, non vuol dire che sia una cosa buona Io ho visto un Fit Support perdere? Io l'ho visto? L'ho visto a Diamond 1 È stato bruttissimo Hai mai visto una poppia di Kerry vincere? Sì, sì, oh, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto È ottimo Anch'io No, perché? Era un bel troll game No, allora l'hai stato No, altri, altri 5 minuti Eh, mi aspetta l'incontro Chiamo il muro dei 10 minuti No, effettivamente Mazzara di Kerry non c'è problema nella settare con le Ma guarda che i cosi I minion di Mazzara guadagnano dalla D e dall'Armor Penetration, eh? Sì, però dai E anche dall'Attack Speed Wow Capito, ma non hai Praticamente non hai una ultima Perché se la tiri non ti infatti ti shottano Non ha importanza Quello che devi fare è spammare spell e avere due minion E continuare a kaitare Non puoi farti l'Attack Speed Che devi farti CDR Sto spammando spell Vado Oddio Ma che cazzo sto scrivendo? Ah, I don't even know Boh, cos'è a caso? No, te contro il Warwick ha di Gary meta sono come un bambino in cinque anni a cui gli hanno regalato la playstation 4 con due giochi o minimo no due controller o non esageriamo mica siamo genitori così generosi e non siamo gente generosi non siamo genitori così generosi è che cazzo dai o mio dio ti prego di noi che posso ok ti prego non bannare lì 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 o dai ti prego dai ti prego ti prego dai dai master i 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 master è un mister di 20 cazzo Si!!! oh oh gg 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 fucking gg lei si guida adesso amdjungle IOLO oh mio dio no 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 oh mio dio I famigli, no no no, i famigli sto cazzo Non so neanche cosa dovevo fare, sinceramente, a caso add carry di nuovo e vaffa a c**o Faccio add carry? Un mid lane, potrei anche andare mid Or mid, mid, vai, mid, 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 va tutto mid E va bene? E va bene o no? Cosa? Vai, mid, si, si, batte il c**o In before, fido a m*****a Quello sarebbe fantastico, se tipo voglio Master Yi e poi tipo non riesco a farci niente Quello sarebbe tipo il top Vabbè 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 Facciamo tutta la notata così Eh? Questo a caso Facciamo tutta la notata di cose, di stream No, no, questa è l'ultima, poi basta Sono stanco Questa partita però è da giocare Oh mio dio, se uno di loro letta, giuro, faccio un massacro Devo blindare la scala Aspetta ma Karma è top Abbiamo Karma top Si Basta Oh madonna, che palle C'ho Zed contro Che c*****o Magari prendi Lial invece degli Ignite, mongolo Si, quello effettivamente potrebbe essere... Meglio O il barrier E' veramente insensato adesso il barrier, cioè... In late cura di più... Lial Del barrier, si Cioè, ti porta Cioè, cura due persone, che senso ha tirare... Cioè, che senso ha il barrier adesso? Ha senso solo per l'early, primi tre livelli, poi Poi ne serve un c*****o Ok Ma tu la prendi il teleport? No Ho preso basta e gli basta, è finito GG Non piacere Oddio Ehm 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 Sì, come noi, uguale Io non ti ganko... Io non ganko fino a tipo 15-20 minuti, eh Te lo dico Spero che Warwick faccia la stessa roba Ah, è Warwick Jungle? E' Pantheon top? Cazzo Eh, allora sì Karma si diverte come una pazza? Ehm Abbiamo un MMR ed è giusto un pelino alto, ma appena appena eh Perché? Perché Karma è un ex diamante, vabbè quello è poco... E con quelle che ho recuperato... Ne abbiamo vinte 5... Cioè, nel senso delle ultime 7-8 che abbiamo fatto insieme ne abbiamo vinte 7, quindi... Sì, wow Ho recuperato un casino anche io di MMR Aiuto... Voglio morire... E Zedmir ha accontentato... E Zedmir ha accontentato... E' apposta... Oddio via... Oddio 2048, è fastidioso come gioco Perché non l'hai mai finito per quello l'odio? No, in verità... In verità basta guardare la prima posizione e in teoria potresti fare... Se fai un ragionamento corretto dovresti essere in grado di calcolare subito come fare E' una rotazione di movimenti fissi eh No, non è fisso... Però ti dico... Uno in classe con me è arrivato a 8196... Cos'è? 8192 Di score? No, tipo... Sì, sì... No, 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 no... La... La casellina... Sono... Ah, casellina... Sono 166.000 punti tipo... Ho fatto una mattinata... Sì, che seguivo le lezioni... Lui che devi che giocarmi a 48, tranquillo... Io mi diverso solo a giocare quello in versione LOL Siamo arrivati ai livelli... Dai... In aula succede di tutto ormai... Quindi... Vagina... E siamo al Politecnico, non è che siamo proprio... Un'università a caso... Politecnico e Ingegneria... Però Ingegneria è pieno di pochi... Cosa? No, 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 no... Tu no, tu no... Tu stai qua... E' pieno di Game Boy... E' pieno di PSP... Tutta roba cosi che gira in aula... Che bello! L'inizio... Voglio fare anch'io l'inizio anche si... Vabbè... E fare eserire informatica anch'io... E' pieno... L'idea era quella... Tra l'altro... Tra l'altro dentro in aula... C'è qualcuno che gioca LOL... Vroom... 12 persone... E' a caso... E nessuno mi conosce... No, 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 no... Credi tu... C'è un po' di gente che ti conosce... Vabbè... Hanno fatto una cosa... Di tornare all'Università... Ho giocato in quello... Ci ho giocato io nel team... Ah... Nel poli... C'era, si... Palla... Il quinto stregone di fila... Che brutto... Essere senza... Essere senza cosa... Essere senza... Le rune attack speed è proprio una merda devo dire... Mi direi metà vita già... Buono... Io ho fottuto il red buff a Warwick... Tradotto Warwick... Non gancherai per i prossimi 18 minuti... Esatto... A meno che lo sia andato instant al mio... Al mio red... Ma dubito... No! Quindi me lo prendo io... E può succhiarmi abbiatamente la cappella... Non lo abraFC... No! Eeeeh! Tre buff! Hoppy shit! Ha... şurato... Ci sentiamo! Adesso la capitale... A presto! Insomma... Ok... Allora... A counter gankato Warwick È livello 4 come fa ad essere livello Ah ha preso l'assist Giustamente Ah no ha preso la kill mi sa Sì ha preso la kill merda Quindi vi dirmi che adesso mi devo aspettare i gank più velocemente del previsto No È per me il double midday E allora Ball Guarda Zed che bellino quanta vita Eeeh non posso venire a gankarlo Troppo rischioso Ma lo so ma dico guarda che carino che è Lo so Non è carino È carino È carino Doll 40 di vita Zed Che culo Eh io vado a farmi tipo 2 kg di attack speed e mezzo All week mid Quanta farm ha? 28 28 Come me? Eh lui ha delune attack speed probabilmente Io devo prenderle Ah che padre What? What? La mia Q Gli ho fatto la Q Che cagata è questa? Gli ho fatto la Q Aiuto Aiuto? Aiuto? Sono in base Ah merda sono morto Sono morto Ehi mi ha fatto la Ehi mi ha fatto la ulti war week Bella merda Come cazzo fa Come cazzo fa a essere livello 6 war week? Ah una kill Ora due Sorry Quella cazzo di Quel bullshit flash Io ho fatto la Q su Morgana Non è andata Questa è una puttanata Tipo con la Zed mi shotta Sì No Mi shotta Sì Se vuole sì Questa è quasi il momento del mio blu Wow Io sono incazzato a morte Per quella cazzo di Q Eh adesso c'è tipo Grave Che è tipo mezzo hack Perché? Perché feed No perché tipo Eh esatto Vuoi il blu? Sì Allora vieni te lo prendere Arriva arriva No subito Se no io me lo prendo Non smetto di autoattaccare St'arrivando 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 Eh T'ho detto Non smetto di autoattaccare Eh mi Mi faceva brutto Perdere 4 minion Oh 4 minion Non per un blu Minchia Zio Potrei aspettare 2 secondi Mi sono messo un attimo Ho tirato QV E sono una snor Stai provare a gancare Minio Adesso Non credo Buono Bottom lane ha fatto 2 kill Io ho 16 stack di ferral Quindi col cazzo che Perchè non mi ha dato una stack Per questo campo What the fuck Ok Ok Quale è la data Strano Guardato parte alta Eh Guardato parte alta Non ho capito Ha guardato nella parte alta adesso Ah Ha guardato E ho sentito guarda nella parte alta Dico che cazzo sta di si droga Guardato 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 Non guardato Cioè non hai detto niente Hai detto tipo Dio Guardato 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 Daaaah me l'ha flashata Oh cazzo! Questa mi serviva Le donano al flash Nella ulti Io ero dall'altra parte, sennò ti avrei scudato Peccato, non importa Cosa dobbiamo aver paura? Di una sega? Eh vabbè, arriva Veil, madonna Sono sopra di kill ma sono sotto di tre torri Ho 21 stack di pera Flair, balance chic Nooo, quello zetto non prende È verità Boh Ma cazzo fa da verità con gli oggetti quello zetto, vabbè Ah, dove l'ha fatta la kill, da proposito? Di te? No, non l'ha preso più No, ha preso l'assist quando mi hanno ucciso Ah, non lo so allora Adesso non l'ha beccata a zed di ignite magari Si, l'ha beccata a zed quella kill Ah ecco dove l'ha preso, ok Perfetto Eh, sei morto Eh sì, ancora qualcosa Ti farà una Q Eh 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 Eh, vabbè Lol Niente Vabbè, uno l'ha ucciso, dai Beh, uno per uno No, avevano ucciso anche Nami, ho sbaglio Sì, loro hanno ucciso Nami Sì, loro hanno ucciso Nami Però se... se non ingaggiavo moriva... No, mi è baffa Io finivo ancora più sotto da zed Mhm Io ho la ferroafle quasi completata Ah, ok, no Stavo per dire a Graves di andarsene Era, mi stavano andando back, gg Sì Il prossimo blue dovrebbe essere adesso, arrivo Eccolo Stesso discorso di prima, io non smetto di autoattaccare Non posso fare più fretta di così, fischi che tiro anche la W Oh mio dio Sì, così non posso materialmente proprio Ho ucciso di E Come un protetto lo ucciso Noll Manca mid, manca mid, manca mid Ma ma where's the miller Feel it, feel it this way Mi sa che mi farò le rune di Attack Speed su questo account appena ho i soldi Ah, merda, non ho visto Warwick non ha ancora il Feral Flair Vapetta, cos'ha? Cos'ha? Ha 21 stack di Feral Flair Eh sì, però Eh, però ci facciamo un drago gratis Gratis? Non lo so Sì, gratis Sono due top Ok Dietro Zed Niente, niente, niente Io? No, c'era Zed qua C'era Zed dietro di noi Possiamo ingaggiarlo se vuoi eh Se vuoi Aspetta Ma guarda te li dentro adesso Ma guarda te li dentro adesso K da me Oddio aiuta Dita Tia quasi qua Direzione più sicura era quella E io vado Ho quasi fatto la blade Quindi A 15 minuti ho 6 stack di Feral Flair K Balance Shift 6 7 No, no, ma è un oggetto bilagiatissimo eh Ho la blade K Io ricallerei sinceramente 1.6 mi compro... Compledo il calice Oppure faccio ancora un'andata perchè è quella del Siege Salve E quella karma è morta Io giuro quella karma non la capirò mai Non ha piazzato tipo una ward per tutto il game E boh Continua a fissare È il diamante! È il diamante Leo Diamond, Diamond Diamond plays Diamond plays, vè Vez, Diamond plays Boh vado a fare qui una con Vayne Secondo me mi kaita a morte e mi batte Tipo mi ho... Se ti mando contro il muro sei morto Il poco mi assicuro No la pink Questo è il mio vantaggio Si ma se ti bacca al muro sei morto comunque Pink o no? Merda Nope Vabbè È il champion sensato Si È il champion più sensato Rai Cioè sul serio Warwick non aveva ultato coso? Sul serio Warwick non ti aveva ultato Graves? Fuck my life! Mi sono morto perchè questa qua non mi ignita, cioè ha tenuto l'ignite fino a quando aveva tipo 40 HP e così ogni tanto mi ha ucciso No ma non c'è più il bilanciato eh! Siii! Il massimo del balance Boh vado a farmi il blu Noi alla Riot sappiamo bilanciare i champion Ma è il Feral Flair che è broken a merda mica è Karma mi frega il blu, vabbè, gg Boh così per sport? Si Questa di cazzo mamma, ma sta calma, io la reporto Sta calmo, sta calmo Ma a fine game la reporto Ma perchè? Cosa ho fatto? Vabbè ti ha fatto tutto il blu Che fa le stranzate lei, fa le stranzate lei e flema me perchè fa le vacate lei Flamma, non flemma, flamma Dai, su Sei estremamente morto Qua... Bello Non ho la ulti quindi non posso neanche venire a recuperare Però ho quasi soldi per una bf Cosa fa il Feral Flair? In pratica Ogni autoattacco che fai fa danno magico Secondo un contatore No, non è possibile C'è Warwick, come non è possibile? Da quando Warwick non può farci il Baron? Quando cazzo gli pare? WTF? Vabbè Eh... Nami decide che non è... Non è giusto Perchè... Perchè dovrebbe sprecare Tempo A fare qualcosa quando può morire Ha la zona Nami K Ma non salva nemmeno Lol Il cazzo di Warwick quanto cazzo di male fa? È 11-1 A tutte le gill lui c'ha E intanto c'è Vaynebot che fa il cazzo che le pare Stai indietro Stai indietro che ti fa un binding che ti ammazzano Oh... Che cazzo di... Oh... Allora... Allora gioca bene Oh... Bravo E allora... Oh... No... Fino ad ora non fai un cazzo adesso che fai... Che fai le kills e fai il figo? WTF ha laggato quella 100% E' finito Niente... Hanno tirato giù la torre e non ho ulti io Ok... Mi ha one shottato... C'è... Zed Non so che devi farti un Randwin Nah... Mi faccio prima l'infinity e poi il Randwin Mi farei prima il Randwin Nah... Fai già un male boia così Che cazzo te ne frega In pratica... Una... Allora... Faccio... 154 danni bonus E... Mi cura di 28 ad ogni autoattacco Questo vale un terzo contro i Champion E... Karma muore di nuovo No... Invece no... Si salva per un pelo Eh... Zed ha 5 kill quindi... Sarà da focussare abbastanza Eh... Sai cosa? Mi sono dimenticato di usare la blade prima LOL 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 Sei una merda Ah c'è Warwick che si sta facendo il solo drago e... Però... C'è... Ognuno fa il cazzo che gli pare Arrivo... Arrivo... Sto arrivando Forse 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 forse... Uff... Vabbè... E' giuta? E' giuta? E' giuta la mia dubbia? Bella... Bella... Nemo... Sì... si può fare... Sì... In B4 Pantheon me lo stila... Non è jungler stavolta... Non ha importanza lo stila comunque... Riesce ad outsmightarmi... Non si sa come... Beh smite è west... Super speed... Non posso... Non posso... Esatto... Non puoi... Mennomani che l'hai capito... No... E' arrivato Morgaso... Per quello non potevo eh... Ahahahah... Non mi ricordo... Non la cerca la rae easy proprio... No... Eh vabbè... Aiut... Aiutà... Sono salvo... Vado a... Recallo... Ma... Recallo abbondantemente proprio... Non voglio... Non devo vivere... Cioè... Voglio vivere... Ti dispiace se prendo il blu? Si... Un pochino si... Ma è il cosa... Il calice grosso... Ho anche il blu... E allora vaffanculo... E' mio... L'altro... Lo... 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 L'altro mi metà, il mit了 mi meto... Il mit了 nel veloce... non prometto niente Now! Corri! Eh, si uscito V-Ranger, sennò non d'accordo Nono 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 ti salvo, ti salvo, ti salvo, ti salvo ti salvo, ti salvo Ho tirato anche lì Aldo, ho tirato tutto, sennò eri morto Adesso arriva Zed e mi shotta E che ci provi Qui ne shottiamo lui No no, ma è balance questo champion Questo item? No no, questo champion Ti scudo io, vai No no, non possiamo chiudere Via 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 Perché? Perché dobbiamo combattere? Perché? Qual è la vostra necessità corporea di uccidervi? Cioè Qual è la complessità di andarsene? Abbiamo preso inibitore? Basta! Basta! Cioè non c'è bisogno di altro Puoi andare a casina e goderti il tuo guadagno Ti fai una bella sega E sei contento Non devi fare le cose complicate Fare il tryhard è da merde Devi giocarti la pace Devi... È il mio main Non posso fare il tryhard Non posso giocarla di merda Vabbè Vagamente il tryhard Per quanto sia possibile fare il tryhard alle due No scusa Ma sai che viene meglio mentre sei morto il tempo? Sì beh è più tempo Ho quasi... ho quasi la yomu Appena ho la yomu sarà gg Hai fatto il rally Hai fatto il rally? No Ma sei un pirla Ti shottano Ti shottano PLEASE Non abbiamo un tan comunque Ma cosa? Noi dobbiamo shottare Il nostro lavoro è shottare Basta Sì Se prende ti shotta siamo ben finito E basta rimbore Non è vero Non è mai successo Ho regalato a pele Non ci credo Madonna Dovevi instamultare Eh non ci arrivavo Era fuori range purtroppo No Ma se tipo andassimo Andiamo bot 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 Pusciamo bot Ho bisogno di un blu Fuck you Tu non hai bisogno di un blu Che bello Possiamo caitare Posso caitare le morte di palla Il karma muore No non è morta Ora muori tu e rido Ora muori tu e rido Eeeh Graves muore No invece no Riesce a fare il flash della vita Sto arrivando Sto arrivando Sto arrivando Sto arrivando Sto arrivando Arriva la penta Arriva la penta Arriva la penta Arriva la penta Perdonami Perdonami Ti odio Ti odio Ti odio Tu non sei degno di vita Adesso adesso vado a Fk Basta Basta Allora hai pregato una crescita Io vado a Fk Eh ok Vincila No Basta Vado a Fk Vincila Vincila Ti odio, sto loggando, sto loggando, sta buono Sì, certo che ha staccato, era vinta Mi stiamo tirando, senza dirvi che hanno tirato su tutte le torri del Nexus Avete vinto? No, la perdiamo per colpa tua Adesso Ma ci pare che... Mi ti riporta, non mi è morta per colpa tua Cioè, Karma è rimorta per l'ottava volta per colpa tua Mi ti riporta Ok, sono tornato Sorry Sì, Mike, ma vai a fa' c***o, vai Ma mattina un po' a fa' c***o, vai Hai da riportare, tu Mi bandano, mi bandano Fuck you Mi bandano, ma vai a c***are, vai Quanto amore Ora sto la FK a farmare No, 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 vieni qui, vieni qui che ci muore il Graves Morto Graves Uccidi, uccidi quei... No, 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 uccidi No, 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 vieni qui, vieni qui, vieni qui, vieni qui, vieni qui Eh, ho fatto flash a c***o, vieni qui, vieni qui, vieni qui Ora morite Ora rido Ora rido, perché morirete tutti Ora rido, perché morirete tutti Vattene, corri Oh mio Dio, guarda quella Nami, guarda quella Nami Oh mio Dio, non ci credo è riuscito Sta arrivando, sta arrivando Nami Corri Nami, keep running Rami Oh mio Dio, la vuole Oh mio Dio, la voleva The saves La voleva hard proprio Vieni, vieni, vieni mid, vieni mid, vieni mid, corri mid Ok, Karma rimorta Strano, non muore mai, strano, non muore mai Karma Eh, era legendary Scusate, Graves con la Trinity Ah, c***o Ah, dai, ti prego, facciamo una cosa seria, se no veramente la finire che la perdiamo, non scherzare Ok, 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 arrivo Aspetta, ho la ulti fra 40 secondi Riesci a aspettare 40 secondi? Ok, no, non riesci a aspettare 40 secondi perché sei un c***o di nabbo Ah Abbiamo dietro i noi Pantheon Non sono più trollati, però Andiamo Ad chase Warwick Mid, dai, mid, 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 veloce, mid, veloce Vabbè, questa partita devo metterla su YouTube, però Questa è fantastica Penso che sia la miglior No, vabbè Best Bindings e West Ti fai bindare come una merda, ma sei una merda proprio Ma che c***o pensano di fare contro Massagini? Lo scudiamo in 18 Puttana i danni che faccio, puttana i danni che faccio, veramente Che c***o mi chiedeva in catalasi? Che c***o mi chiedeva questa? GG Come è? Non mi chiedeva la davanti a Nex Questo su YouTube, dai, dai Non mi chiedeva la davanti a Nex 30 punti, 30 punti 30 Madonna Fino presi i 20, vai che c***o Oh, madonna Buono, no comment, cioè, buo Paranza in decenza Su giocare Master Yi Aspetta, aspetta Aspetta, devo fare honor a quella c***o di Nami Perché è tipo Gesù Ha fatto sì, è vero, ha fatto una cosa su questa caratteristica Gesù Gesù, no Gesù Che è il bimbi, l'ex diamond che è l'archezza di karma 4,9 Quella è ex diamond, eh Esatto Comunque, ragazzi, ciao a tutti, buonanotte Ciao Notte, notte Ciao Io Grazie a tutti.